Il mio gesto che utilizzo di più può essere... vai! Ho imparato a non gesticolare. Un gesto che mia madre mi faceva frequentemente quando ero piccola. Visto che siamo in cucina quando cade l'olio, un segno di scaramanzia, si prende un pizzico di sale e si butta alle spalle. Quando ho dei problemi sul cucina, col lavoro, con i ragazzi, è questo. Perfetto!